La danza si chiama Zar e questa danza è una danza per guarigione, si fa in sud dell'Iran con vestiti neri e le donne oppure anche gli uomini quando si sentono male vanno a queste riunioni e i musicisti suonano e loro attraverso la musica e il ritmo guariscono, è una cosa bellissima che esiste in tutte le culture del mondo, non appartiene solamente ai musulmani del sud. Adesso Zahiro e Giolina interpretano alcuni momenti di questo tipo di danza. Zahiro e Giolina 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 Zahiro e Giolina